Boh sì? Penso che sì? Tu senti? Lo sento? Grazie, grazie. E cominciano, wow! Siamo dove vanno? Sono andati all'orto dei Pokémon qui. Esatto. C'è una cosa che fa molto spesso, con Pg che sono considerabili pro... Va bene, iniziamo. Gli piace molto fare l'enail perché comunque è una command grab bella grossa. Quindi se ti corre in faccia... Sì, solo che cazzo è invincibile quando fanno i dash, no? E come abbiamo appena visto ha fatto DA away su Electrical Edge ed è morto. E' morto, sì, a un 75%, ok? Sì, insomma. Il fattore normale amministrazione. Sì, sì, sì. Quindi sì. Ecco qua il famoso command grab. Anche Contour Immense, prima ha fatto due SD, Nicola. In due game, sì. Non so. Un po' freddo, magari. Quelle SD lì, precisamente. Cioè... Non solo se è B, ma non su... Troppo... Cioè, ha troppato la ledge con Ju, Un spiegato non è away. E per questo è morto. Non ci avevo fatto caso. Sì, quindi... Oh! Vabbè. È rimastante attaccato. Sì, infatti. Ah, infatti era ancora lì. Non è brutto giallo. Comunque sì, si muovivamo pari. Circa, sì. C'era la solita trap. Non sa bene Nicola di dover scoprire dal gordo lì. Perché... Una tuttina che ha gioia. O... Ritringe il gordo con un hitbox mentre Risa dalla ledge. Ma... Lo penso con un player con una player con tutto così. Anche purtroppo l'edge ha free. Sì. Però se non lo temi bene, appunto... Colpiti. Un gioco lì è la fase meglio colpire che si prende dal down smash e morire. Quindi sì. In un momento... Ho preso anche la rage drive, quindi... Cioè io sta... Scopper camera trick. Sta comunque un attimo... Alla ledge. Aveva la ledge. Aveva la ledge. Mossa un safe su scudo. E... Punto da elettrico. E comunque Nicola... Ha provato la fame. Troppo, troppo, troppo rage. Rage match no. Qua adesso l'ha preso, però... Alla fine... Cosa? Penso fosse un miss simple, però... Forse voleva tankare qualcos'altro. Di ampio. Può anche essere. Sì sì. Andiamo qua... Da un troffè... Ma dovrebbe fare più danno forse? Tipo uno in più può... Può anche darsi. Un misto più danno. Keep scende giù. Ancora provato come prima. Eccolo qua. Qua è la command grab. Fuori off stage. Dallo stall di Nicola. Però... Vediamo che... UDI. Giusta. E... Il neutral... Possiamo dire che ce l'ha anche acciaio in realtà. Quando abbiamo fatto col piede da... Ci fa col piede da electric. Perchè questo... Da red drive. Esatto. Non conta troppo. Adesso non c'è più però. Oh! Arriva il gordo. Il modono manca pochissimo. Ci stava ci stava però. Torna indietro. Ah! Ha premuto. Ha premuto. Ha premuto. Nicola sapeva. Punisce con... Side B. Dragon punch. Ah per cazzo. Nel primo game... Nicola flotta. Lo recupera. Dagli inferi. Ma... È ovviamente... Sì sì sì. Classico. Sì. Vuoi dire un classico. Sì proprio... Scena ricorrente nei Tekken. Sì. Sì. L'altro tipo... Lo butta giù. Per il gruppo. L'altro tipo... Torna su. E cazzo. Lo ributta giù di nuovo. E fa... Questa spinta. NFL... More... Ah. Sì. Va bene. Ok. Quindi sì. NFL si trova a metà giù. Una zero su acciaio. Con questa... Simile remote. Si può dire. Sì dai. Alla fin fine si sono un po' ammattati la vicenda. Anche... Si può dire anche che Nicola si... Si ha fatto angrestirsi. Quindi... Forse aspetta. Forse... Forse... Cosa cerchi bro? Cerchi questa. Aaaah. Anche io l'avevo visto. Che nerd. Anche io. Quante belle musichette. Chi sa che le ha fatte. Io. Sono stato io. Tutte quante io. Bravo. Che meriti allora. Non so. Hai visto? Oggi la musica del menu. Sentirei dopo. E di Pokémon Colosseum. La lost migliore di Pokémon Colosseum. L'ho messa ieri. È molto carina. Ho messo... Ho messo... Perché è nuova. Quindi ho messo solo quella lì. Ha messo cosa? Ho messo... Jetpack Joyride. Acciaio. Ah davvero? Si. Ho messo Level Team. Che grande. Sempre qua siamo. Non so dove si è andato. Small Butterfield. Forse. Ho visto bene. Ho visto male. Ma non lo so. Ho messo da acciaio. Il giovane Mao ha scelto... Una Mao? Si. Si. Ha scelto. Lo stage ottimo. Si. Un attimo comunque... Vedere Nicola come riesce a gestire... I gorghi. So come mai hai preferito scegliere... Small che è più piccola di Stadium. Stai più vicino a campo. O più... So. Non so. Non so che non... Aveva fatto così. Senza pensarci a questo. Ha detto... Questo stage mi piace. Quella Rina è una ma... Molto scema. Però... L'ha tenuto più si tanto. Che poi ha... Un po' si preme. Non preme acciaio. Basta fare... Stava fare AB. Però non ha premuto. Forse però non... Non snaccava. Perché ha troppo in là. Sai che... Quando qua avviva... Quanto dritto... Ma... Tunggui di pittare molto poco. Quindi forse era... Un po' una... Non ottima. Che non è che ha un botone veloce. Forse un air... Forse... Ma... Forse l'aveva... Anche sì. Ma hai ragione. Eee... Ora in un attimo... Vedere... Come... Ah... E ci muore. E... Acciaio voleva scendere penso. Non era un T-Berg. Però... Anzi... Non riusciva a scendere dalla piattaforma. E' molto difficile. Guarda... Si inizia ad raccare un po' di danno qui. Berg. Però non lo prende. E... Guarda... Fuori di K. Ci delucina a 105. Tipo dal... Ridicolo. Per tre. E' enorme. Si si si. Qui in avanti va tantissimo anche se questo. E poi fa il passetto, no? Però... Assurdo. Quindi in idea a 120 c'è la Cattari Small. Anderle De Morto. Quindi... Di quella sta già un attimo... In questo momento è un po' difficile il caso. Si. Però... Già meglio il fotocalking precedente. Non c'è ancora ucciso. Cacchio. Si può sempre dire che... E' una buona cosa. Ok. Come l'ha stannato. Davvero... Guarda... Guarda... Sta... Rilagnando molto sul gol nessun'attività. Quando poteva magari farla una gara. Perché a Nicolò... Si si si. Ok. La fill. Ottima. Vedete l'idea. Si ha visto. Eeeh... Un attimo. Che paura. Ok. Comincia un po'. Ok. Oh... La patch... Non è arrivato. Si. Ok. Jab jab. Si. Ghezzo bello. Da nessuna parte. Bello questo... Back tilt. Back half tilt. Quella roba lì. Andieri incredibile quello. Si. Toonami kick. Penso. Si. Boh. Si. Boh. Mi fido di indeserverne conoscenza. Eh... Deve stare anche... Un po' attento a Red Platter. Perché... Da quella posizione lì... Il martello... Cioè... Se proprio lo fa attaccato a cliccato... Puccede quella cosa. E qui preme la squiccata... E punisce di nuovo con Dragon Uppercut. Grazie. È del 2-0 per Nicola. Ha scricato. Ha scricato. Esatto. Quando puoi dacciare in modo invincibile con un hitbox più dire a 90... Si. Eh... Si fa insomma. Torna, no? Vedete che Acciaio dice... Ah... Questo stage... Level 10. Lo voglio. Non ho voglia di cambiare musica. Non so come si fa a scegliere le musiche. Quindi continuerò a scegliere lo stesso stage di prima. Che è comunque... È una scelta. È una scelta. È una strategia. È una strategia. Può dire. Eccoci qua. Giante bine. Qui la DI. C'era... Ah... Ha sbagliato... Voleva fare la combinacca. Continua solo sui grassi, quanto pare. Quella con la jet... Si si. Graucia, graucia. Beh, poi salto 6B tipo. Ti stanna comunque delle idee, anche se... Ah, arriva perché hai delle idee così grande. Che è stannato. Però la mi sa. E poi la incappia tipo... Uff... Che rabbia. Uff... Che peccato. Però... Lì... Se hai colpito da quel bear... Non so se Nicola se l'aspettava, sinceramente. Però... Non ha colpito. Quindi Nicola... Non è... Non si è posto di problema. Non si è ball down, che subito sì. Nicola sapeva, Nicola sapeva. Conosce... I tips and tricks del... Ma... Potremmo andare ai tiktoks? Si... Niente da nessuna parte. E quindi... La edgeguard... Da parte del giovane Mao... È rimasto sullo stint tutto il tempo... Adesso è andato di guardare... Non ce l'aspettavo. Diforest Jack... Essere elday... Comunque puo' USPoiopare queste cose insieme. PCLURRE U comprido in Everot fuoco con Llaughs,io... beings come passato, comprese irgendwann dei saltiati che decidono... Sì. Sì. Uniamo qua... Avete detto... Più un Down Smash sinceramente. P Vulante. Poi mi itpando nous basens pot compliqué. Dopo EU Naturally sì. Davvero? Sì. Ah, l'Electric DownALL? Sì sì sì... Dopo EU gouge ho già... Prense di nuovo fortuna... A meno che non dormi... Ma com'è? Sì, è kill là Wow, ha killato 110 Nonostante fosse Sia comunque una spike non debolino Sì, sì Assurdo Cioè, Uole subito la kill La kill, sicuramente Però C'ha I due knockback che si incrociano E Il vangolo davvero brutto Però La rage attack già è andata C'è una questione di Peccato, lì potrebbe essere un active Probabilmente una per Ma è una questione di Tempo Prima che La spazio di Nicola se ne vada E' il B Vediamo un po' Dan B No, spike subito Ok Stavolta Oh, io l'ho preso E' Nicola Protta NFL Si porta a casa questo 3-0 Su acciaio Comunque C'è C'è